Confidenza per confidenza, non mi sono fatta male alla gamba, guardi. Ma allora perché tutta quella scena che lei ha fatto... Volevo che lei venisse da me. Ma che fa? E me lo domandi. Guardi, signorina... Mi sei piaciuto subito, appena ti ho visto. Sì, capisco, cioè non capisco affatto... Oh no, non c'è niente da capire. Come ti chiami? Mi chiamo Roberto Maldi, dottor Maldi, Roberto. Roberto. Dico, Luciana. Ah sì, veramente una bella voce. Guardi, se io avessi delle ambizioni come cantante dopo aver sentito la sua voce, ma per carità, rinuncerei per sempre a cantare. Luciana, non fare la saputella. Io so a che cosa alludi, ma nella vita non c'è solo Raffaello, ci sono anche tanti altri piccoli pittori che hanno diritto di dipingere anche loro, poverini. Guarda, Alberto, è molto meglio essere un bravo industriale che un cattivo cantante. Non è possibile...